Ciao da Ivonsart Channel, siamo sempre qui in negozio. Oggi vi mostro queste casse distribuite dalla GBC, sono casse per alta fedeltà, rifinite in legno con il suo piedistallo molto eleganti, sono casse due vie, bufere Twitter, verata fedeltà, basso morbido, reflex, sono dei 120 massimi a 8 ohm e le ho in promo a 85 euro anziché 100 euro l'una. Sono casse veramente valide, qualità prezzo eccezionale. Un saluto dal vostro Ivonsart Channel. Alla prossima.